Era importante portare anche tre punti perché venivamo da un momento un po' particolare. Il mister ci aveva chiesto di ritrovare la nostra solidità e poi il resto veniva da sé ed è stato così. Ma sì, parlare fa sempre bene, lo abbiamo fatto, l'abbiamo fatto tra di noi, l'abbiamo fatto con il mister. Sembra che abbiamo trovato la via giusta di continuare. A Nicolo ha fatto una grandissima partita, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista fisico. Veccio può lavorare benissimo sia davanti alla difesa che da interno, quindi ha fatto anche gol. Quindi sono tutte soluzioni che a noi ci fanno bene e ci danno tanto. Sì, no, Ivan se lo meritava perché sta facendo tanto per noi e quindi è giusto così. Sì, sì, no, sono molto contento di essermi sbloccato. Però ripeto, oggi l'importante era portare a casa i tre punti. È stato importante fare il 2-0 perché col 2-0 dai un colpo anche agli avversari. Quindi diciamo che da lì in poi siamo stati anche la via a gestire la partita, non abbiamo quasi più subito niente. Quindi dobbiamo continuare con l'atteggiamento che abbiamo avuto stasera e sarà tutto più facile. Soprattutto, soprattutto a Milano serve perché andiamo a affrontare la squadra di grande valore. Quindi conosciamo tutti il Milan, quindi andremo là a fare la nostra gara.